Associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio. Detenzione porto illegale di armi clandestine, anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione. Questi reati ipotizzati a vario titolo per cui 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia partenopea. L'operazione è partita nel cuore della notte. Le indagini avviate nel 2017 e condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabbia, sotto la direzione della DDA, hanno permesso di accertare la nascita sul territorio stabiese di un'associazione armata finalizzata al narcotraffico che si prefiggeva la creazione di un nuovo polo camorristico autonomo. Tutto è cominciato nel 2017 in seguito all'arresto di un cittadino sorpreso in possesso di un'arma clandestina. Il complesso delle attività svolte dagli inquirenti ha fatto luce sull'esistenza di una nuova associazione operante nell'area stabiese, nel rione Moscarella in particolare, che puntava a proporsi come terzo polo della zona, indipendente dai clan d'Alessandro e Cesarano, che storicamente si dividono l'egemonia di questo territorio. I carabinieri hanno recuperato 10 pistole clandestine, prive di matricola o con matricola brasa, due kalashnikov e oltre 500 munizioni di vario calibro, nonché ingenti quantitativi di droga, cocaina e hashish, per un valore complessivo di 250 mila euro.